Luca Zaia, lei ha detto che Matteo Savini ha fatto un miracolo riportando la Lega a Galla. Dicesamente sì, oggi è la celebrazione e la consacrazione di Matteo, quale segretario a pieno titolo, con tutti i fondamentali come si direbbe, ha già fatto le corse a bordo campo per il riscaldamento e ha vinto il campionato. Punto e basta, non c'è altro da aggiungere. Se si vuol dare un senso a questo congresso è quello di una Lega che rinasce e va alla grande. Qual è il prossimo passo? Il prossimo passo sono le elezioni regionali e sono la volontà di andare avanti fino in fondo con la nostra strategia e di portare a casa risultati per i nostri cittadini, è quello che più ci interessa. Lei ha attaccato il titolo quinto durante il suo intervento? Il titolo quinto ha una novità che assolutamente per noi è come se fosse la Madonna, cioè i costi standard, però per il resto è squalidamente interpretato perché addirittura reintroduce la supremazia statale rispetto alle competenze, lascia fuori da questo tutta la ragione statuto speciale e direi che non è un titolo quinto che noi possiamo votare.